Sì, una buona parte diventerà dipendente della regione toscana perché le funzioni più importanti, quelle che già erano delegate alle province da parte della regione, tipo difesa del suolo, tipo l'ambiente, tipo una parte delle infrastrutture, la formazione e le politiche attive del lavoro saranno riprese dalla regione toscana. Un'altra parte dei dipendenti andrà ai comuni perché alcune competenze, cultura, turismo, sociale saranno assegnate direttamente ai comuni, probabilmente nella conformazione di unione dei comuni e non dei singoli comuni. Ma noi vorremmo che i comuni del territorio della provincia di Lucca sfruttassero quella che è a tutti gli effetti una opportunità di poter prendere le professionalità della provincia di Lucca a prescindere da questa azione di riordino delle competenze perché essendo convinti che ci siano davvero tanti dipendenti che hanno lavorato bene in questi anni preferiremmo che rimanessero sul territorio a svolgere il loro lavoro e quindi a continuare a dare un contributo alla comunità provinciale tutta.